amici di quarta parete buonasera mi trovo qui in un angolo del teatro stanze segrete qui in via della penitenza siamo a due passi appunto da lungo tevere dove sono con il maestro egno contorti che saluto buonasera maestro e sono qui perché questa sera debutta qui al teatro stanze segrete e buscetta santo boss è un testo scritto da vittorio cielo con appunto il maestro che cura anche la regia e con matteo fasanella allora maestro questo testo che ritorna qui a stanze segrete di cui lei tra l'altro anche direttore artistico ricordiamolo ed è un testo dove vede al centro della storia questo momento cruciale di questo incontro con questo agente dell'fbi giusto sì sì la ringrazio per il maestro io ma come diceva carmelo bene dopo una certa età che si diventa maestro perché si è vecchio questa è una delle mie follie senso che quando me l'hanno proposta ho pensato che fosse giusto parlare della nostra storia della memoria memoria che ci vogliono cancellare a tutti i costi invece bene secondo me tenerla ben viva senza prendere posizione come il testo di vittorio giustamente fa un personaggio particolare io tra parenti ho visto anche il film noi lo facciamo quando io ancora non sapevo neanche che avrebbero fatto il film non me l'aveva detto nessuno ma lo disse vittorio un tempo dopo e l'ho visto è molto bravo francesco naturalmente solo che l'ha fatto in un modo chiaramente diverso cioè visto ne ha visto più l'anima umana diciamo così io no ho più spinto sì io non è che l'ho trascurato però molto affondato invece sulla sulla parte scura la parte criminale fondamentalmente la parte di un uomo che comunque era un affiliato alla mafia un assassino insomma eccetera eccetera e quindi sicuramente ha fatto qualcosa poi tutta la scalata no diciamo beh non era un capo non voleva essere un capo personaggio molto complesso però partendo da una situazione di grande di lavoro umile poi ha fatto tutta la scalata certo 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 lui era proprio un soldato all'inizio però non è mai stato un capo non voleva essere un capo fondamentalmente forse troppo responsabilità faceva il mediatore praticamente e lo ha fatto benissimo tutta la vita è riuscito praticamente quasi a sconfiggere la mafia o perlomeno quella mafia che lui odiava e quindi io ho spinto su questo naturalmente il testo essendo basato su realtà sono proprio testimonianze rese e pubbliche solo che la gente non conosce o forse non se ne vuole parlare ho immaginato questo incontro ultimo prima pratica quasi della sua morte in cui vengono dette alcune cose estreme e avevo bisogno di uno spazio particolare quindi ho come sempre nella mia follia ho rivoluzionato completamente il teatro senza segrete il fatto che mio figlio stesso che qui lavora spesso ha appena finito uno spettacolo l'altro anno mi disse Emiliano Coltorti l'altro anno quando venne non riconosceva lo spazio perché io l'ho cambiato completamente e se questo è uno spazio che tipo un calidoscopio si presta a essere una cosa completamente diversa ogni volta e quindi insomma ecco siamo proprio è estremamente suggestiva questa scenografia che sicuramente un po' spiazzerà è moltissimo chi l'ha visto l'altro anno era Manfredi mi diceva che non riusciva a capire dove stava nel tempo e nello spazio non capiva e tornerà a vederlo proprio perché era entusiasta e quindi niente ecco siamo qui come sempre siccome molto complesso l'allestimento fino all'ultimo secondo a lavorare ma tutto a posto le volevo chiedere ecco uscendo un po' dal diciamo dal personaggio lei che idea si è fatto di Buscetta? Beh è un uomo molto intelligente un uomo sicuramente con una grande forza d'animo un guerriero anche per certi versi un uomo con un suo codice d'onore credo proprio la vecchia mafia è proprio quello la mafia lui dice a un'intervista con Biaggi che ho risentito anche ultimamente lui dice proprio la vecchia mafia era nata con altre finalità era una difesa verso un governo che ci trattava male ci ignorava e quindi ci siamo io ancora non ero neanche nato ma ci siamo mossi per difenderci così ero entrato nella mafia poi ho visto che piano piano era diventato un'altra cosa e quindi ne sono uscito ora quanto sia vero quello che si dice in questi casi non lo so però fondamentalmente analizzando tutto quello che ho letto e tanto e visto e tanto credo che sia così lui è entrato nella mafia perché era l'unica realtà fondamentalmente e perché c'era la fame e perché era intelligente intraprendente anche imprenditore ma con un suo mondo un po tutto suo che non rientrava del tutto nei canoni della mafia soprattutto con la nuova c'erano dei codici comunque come le dicevi assolutamente da dispettare e che lui cita sempre con molto orgoglio proprio che erano codici seri che aiutavano le persone tranne chi sgarrava davvero poi la mafia è diventato qualcos'altro devo dire che anche quell'ottica lì a me non sono contro la pena di morte quindi in assoluto non condivido nulla di questo però posso capire il punto di vista quindi è contraddittorio come tutti noi forse in certe cose da una parte afferma delle cose da una parte ne ha fatte altre ne fa altre però sicuramente è un uomo che è riuscito a tenere testa alla mafia che non gli piaceva certo però ha mantenuto comunque fino a fondo la sua dignità assolutamente ma anche la sua forza il suo carisma lui quando è entrato al grande del maxiprocesso tutti erano zitti non hanno fiatato perché entrava un pezzo da 90 ma non di potere non aveva più un vero potere anche se il suo potere era diventato quello di parlare però era un uomo che era rispettato sotto e credo mi perdoni credo che appunto poi le buscetta lo ricorderemo chiaramente come il più grande pentito che ha squarciato un velo no su quello che era la mafia no insomma ah no non è vero e questo però lo dico nello spettacolo quindi venite e pagate il biglietto perché non è vero non è vero ma viene citato perché è importante l'uso che si è fatto di tutta la collaborazione con con falcone certo però grande rispetto assolutamente tra i due c'era rispetto considerazione falcone parlava faceva capire che insomma stimava falcone anche se stavano su versanti opposti assolutamente opposti e dicevo invece esiste un altro grossissimo pentito ma di ne parleremo non diciamo e non possono no no si può non so non ne stracciamo neanche sotto giallo poi è una specie di giallo perché non si sa alla fine se riuscirà a ottenere quello che vuole o no e lui fa delle richieste per dire queste cose allora io naturalmente io il maestro contorte vi invitiamo qui al teatro stanze segrete si debutta questa sera le 21 andrà in scena fino al giorno all'8 dicembre lo spettacolo è appunto buscetta santo boss di vittorio cielo il commento musicale è di nicola lesini la regia del maestro col torti ci sarà anche matteo fasanella a dare il suo contributo come agente dell'fba immagino no beh uno straordinario contributo perché perché è un gioco di scacchi e quindi c'è bisogno che dall'altra parte sia qualcuno che usa la testa e il cuore in modo adeguato e che sappia che questo mestiere non è una cosa che si fa così all'acqua di rose ma bisogna seriamente applicarci sì e matteo che è un mio allievo sono orgoglioso di questo e matteo è bravissimo ecco venite perché poi verrete colpiti veramente da da ciò che vedrete in tutti i sensi infatti io quando sono entrato ho detto ma sono al teatro stanze segrete sono da un'altra parte va bene va bene allora tra l'altro io volevo ho scoperto una cosa che lei ha doppiato marlon brandi in apocalips now pazzesco ridax però redax dove hanno aggiunto quei 50 minuti che gli erano stati tagliati per ragioni di mercato e quindi non poteva più fare naturalmente fantoni anche per l'età per la voce e tutto e vinse il provina lo feci io beh sì alla fine le dico solo che quando ho finito di doppiare di sì ma devo dare qualcosa io perché sono totalmente divertito è stato talmente affascinante il film epocale il film ma lui entrare nei suoi occhi e viaggiare con lui è stato meraviglioso maestro grazie mille in bocca al lupo e buon teatro come sempre